Grazie a tutti. 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 Amen. Grazie a tutti. 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 e al Figlio e allo Spirito Santo. Terzo mistero glorioso. La discesa dello Spirito Santo nel Cenacolo. Gesù disse loro di nuovo, pace a voi. Come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi. Dopo l'ascensione di Gesù al cielo, gli Apostoli si raccorsero nel Cenacolo. Pregavano insieme a Maria, e Maria li educava all'umiltà, alla fiducia, all'amore vicentevole. Prima i discepoli avevano paura di perdere la vita, ora hanno paura soltanto di perdere Gesù, perché Gesù è il senso della vita. Padre nostro, che sei nei Cieli, sia santificato il Tuo nome. Venga il Tuo regno, sia fatta la Tua volontà, come in cielo così in terra. Lasci oggi il nostro pane quotidiano, prendete a noi i nostri detti, come noi ripetiamo i nostri dettori, e non ci dovremmo in tentazione, ma di te c'è la mano. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi i peccatori, all'essere l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi i peccatori, all'essere l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi i peccatori, all'essere l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi i peccatori, all'essere l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi i peccatori, all'essere l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi i peccatori, all'essere l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi i peccatori, all'essere l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi i peccatori, all'essere l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi i peccatori, all'essere l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi i peccatori, all'essere l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, Come è il principio, lo stai sempre e stai sempre. E se sei benedetta, amico. Quarto mistero glorioso. L'assunzione di Maria al cielo. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente e santo è il suo nome. Con l'assunzione Gesù ha detto grazie a Maria e il grazie dell'assunzione diventa un estremo segno di speranza per tutti noi. Maria, infatti, dopo Gesù risorto, è la prima persona che sulca il nuovo cielo e annuncia la primavera che stiamo aspettando, mentre attraversiamo questa valle di lacrime. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il Tuo nome, venga il Tuo regno, sia fatta la Tua volontà, come in cielo così in terra. Con l'assunzione di nostro Padre, il Tuo regno e rimetti a noi i nostri temi, come noi rimettiamo i nostri temi e non c'entra le internazioni a noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte, amore. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte, amore. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte, amore. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte, amore. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte, amore. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte, amore. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte, amore. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte, amore. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come è la vita in città, il Signore è sempre e sempre e sempre amore. Quinto mistero glorioso, l'incoronazione di Maria, Regina del Cielo e della Terra. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore. Pertanto in Cielo Maria continua a essere Madre. Quanto è consolante questa verità. E noi non dobbiamo sentirci soli nell'avventura della vita, ma dobbiamo sentirci avvolti dalla maternità di Maria e protetti da tanti fratelli e da tante sorelle che in cielo pensano a noi e pregano per noi. Padre nostro, che sei nei Cieli, sia santificato il Tuo nome, venga il Tuo regno, sia fatta la Tua volontà, come in cielo così in terra. Facci oggi il nostro pane e quotidiano, venite a noi i nostri denti, come noi rinunciamo i nostri creditori, e non ci dobbiamo internazionare la mia gente. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è il loro e la nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è il loro e la nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è il loro e la nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è il loro e la nostra morte. e benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è il loro e la nostra morte. e benedetto è il tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è il loro e la nostra morte. e benedetto è il tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è il loro e la nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è il loro e la nostra morte. e benedetto è il tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è il loro e la nostra morte. E benedetto è il tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è il loro e la nostra morte. E benedetto è il tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Preghiamo ancora per il Santo Padre Francesco e per le sue intenzioni. Padre nostro che sei nei Cieli, sia santificato il Tuo nome, venga il Tuo regno, sia fatta la Tua volontà, come in cielo, così in terra. Padre ciò che il nostro pane, che vogliamo, e benedetto è il nostro prete, come noi benedetto è il nostro seguito, e noi ci usurri per il nostro seguito, e noi ci usurri per il nostro seguito. E benedetto è il tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è il loro e la nostra morte. Gloria al Padre, al Figlio, e allo Spirito Santo. Gloria al Padre, al Figlio, e allo Spirito Santo. Salve Regina, Mater Misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. Ad te clamamus, exul espilie, ad te suspiramus, gementes enflentes, in allatrima rumbane. Eia ergo, ad vocata nostra, e in los tuos misericordes oculos, ad nos convertes. et Gesù benedictum fructum ventris Tui, nobis, nobis, posto che silium ostende, o clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Tu che mi ami così come sono, Signore, Tu che mi ami così come sono, e non come mi sogno, aiutami, Signore, ad accettare la mia condizione di uomo, di donna, limitato, limitata, ma chiamato a superarsi. insegnami a vivere, Signore, con le mie ombre e le mie luci, con la mia dolcezza e le mie collere, i miei sorrisi e le mie lacrime, il mio passato e il mio presente. Fa, Signore, che mi accolga come Tu mi accogli, che mi ami come Tu mi ami. Liberami dalla perfezione che mi voglio dare. Aprimi, Signore, alla santità che Tu vuoi accordarmi. Risparmiami, Signore, i rimorsi di Giuda, che rientra in se stesso per non uscirne più, spaventato e disperato di fronte al peccato. Accordami, Signore, il pentimento di Pietro che incontra il silenzio del Tuo sguardo, pieno di tenerezza e di pietà. E se devo piangere, non sia su me stesso, ma sul Tuo amore offeso. Signore, Tu conosci la disperazione che corrode il mio cuore, il disgusto di me stesso, che proietto sempre sugli altri. La Tua tenerezza mi faccia esistere ai miei stessi occhi. Vorrei, Signore, spalancare la porta della mia prigione, che io stesso chiudo a chiave. Dammi, Signore, il coraggio di uscire da me stesso. Dimmi, Signore, che tutto è possibile per chi crede. Dimmi che possa ancora guarire nella luce del Tuo sguardo e della Tua parola. Amen. Nostra Signora di Lurda, Santa Bernadetta, e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. di bianco candore recinta dove le cinge la vita un lembo del Cielo. Ave, 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 ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Sia lodato Gesù Cristo. Sia lodato Gesù Cristo. Sia lodato Gesù Cristo. d'avros 수�azio di Dio Onnipotente, Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.